Buongiorno ragazzi e bentornati. Allora, dopo aver svolto un breve riassunto di quanto detto ieri, sottolineando come Kierkegaard sottolinei la sua attenzione sulla categoria di esistenza e la declini come possibilità con tutte le conseguenze, in particolare quelle legate ai temi come quello della libertà, della scelta e dell'angoscia che accompagna costitutativamente l'uomo nella sua esistenza proprio in quanto è possibilità, bene, adesso proviamo a partire da tutte le informazioni che abbiamo a costruire un confronto tra Kierkegaard da un lato ed Hegel dall'altro. Perché? Perché Hegel è il principale punto di riferimento della filosofia d'inizio ottocento che è quella nella quale Kierkegaard polemicamente si forma. Perché se vi ricordate Kierkegaard nasce nel 1813, muore nel 1855 e negli anni della sua giovinezza, quando si forma culturalmente, la filosofia imperante e dominante nell'area tedesca è sicuramente quella idealista e soprattutto quella di matrice hegeliana. per cui è inevitabile che Kierkegaard si confronti con Hegel e Kierkegaard si confronta con Hegel in maniera molto polemica criticando tutti i nuclei concettuali dell'idealismo. Perché? Cosa fa Kierkegaard? Kierkegaard difende il primato dell'individualità, della singolarità dell'uomo contro il primato dell'universalità, dell'assolutezza, dello spirito hegeliano. Kierkegaard difende il primato dell'esistenza contro quello della ragione. Inoltre Kierkegaard critica aspramente il divenire dialettico così come descritto da Hegel, affermando che l'esistenza umana in quanto possibilità non è dialettica, ma è scelta. Scelta che irrevocabilmente, una volta effettuata, scegli una parte per negare tutte le altre. E non c'è possibilità di conciliazione. E inoltre Kierkegaard sottolinea con forza come l'uomo in quanto l'esistenza umana, in quanto possibilità, è essenzialmente libertà di scegliere. Quindi è libero arbitrio. E non è necessità la libertà come la intendeva Hegel, il quale intendeva la libertà dello spirito come autonomia e indipendenza da altro, come il progressivo realizzarsi nella realtà delle caratteristiche dello spirito in modo autonomo. E inoltre, naturalmente, Kierkegaard sottolinea la centralità della categoria della possibilità contro la categoria della necessità che è un elemento costitutivo della riflessione hegeliana. Proviamo a vederli brevemente, questi aspetti. Allora, innanzitutto l'illusione della dialettica, possiamo chiamarla. Ora, Kierkegaard afferma che in Hegel questa opposizione delle alternative, la tese e la sintesi, in realtà è solo apparente. Perché? Perché tutte le alternative hegeliane, i poli della dialettica, in realtà trovano sempre una conciliazione successiva, una sintesi. Ed è proprio quella sintesi che fa capire che quei due aspetti precedenti non erano che due manifestazioni parziali di una realtà superiore. E la stessa cosa vale anche per l'uomo, afferma criticamente Kierkegaard nei confronti di Hegel. Perché Hegel cosa fa? Hegel afferma sì la singolarità dell'uomo, ma successivamente la riconduce, riassorbe nello spirito. Sottolineando, Hegel, come l'esistenza non si ha, l'esistenza dei singoli individui, non si ha altro che una manifestazione di quell'unico grande realtà che è l'assoluto. Mentre invece Kierkegaard, di fronte a questa realtà, afferma con forza il primato del singolo, il primato dell'esistenza, che viene prima. L'esistenza è precedente, è una posizione assoluta, direbbe Kant. Non si può predicare l'esistenza necessariamente dallo spirito, semmai è il contrario. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'unica dialettica possibile non è una dialettica che concilia, fondata sulla necessità, ma è una dialettica qualitativa, è una dialettica nella quale, oh sì, una volta scelta una cosa, le rimanenti vengono per forza escluse. Non è una dialettica che concilia un et-et, ma è una dialettica che disgiunge un out-out, o l'una o l'altra, non c'è sintesi nell'esistenza di un uomo, perché proprio la scelta porta a fare una scelta e a discludere le infinite altre. Inoltre, Kierkegaard si sofferma sulle caratteristiche oggettive che Hegel vuole dare alla sua filosofia, sulla pretesa di essere sistematica, di descrivere oggettivamente tutti i molteplici aspetti della realtà. Ecco, Kierkegaard contrappone a questa riflessione oggettiva la centralità della soggettività, che è inevitabilmente connessa con l'esistenza singolare di ciascuno di noi. Secondo Kierkegaard, ogni uomo è direttamente coinvolto nello sviluppare il proprio destino. Insomma, l'esistenza del singolo è sempre singolare, appassionata, inquieta, e quindi sempre solamente riconducibile al singolo stesso. Potremmo dire che la verità che Hegel individua nell'intero, nell'assoluto, completamente sviluppato, e quindi è una verità oggettiva, per Kierkegaard non ha senso, la verità è sempre soggettiva, è la verità di quel singolo, è la verità della sua esistenza, è la verità della ricerca di qual è il senso dell'esistenza per quel singolo. Riguarda la ricerca di un'esistenza autentica, ma quell'esistenza autentica è sempre l'esistenza di quel singolo. La verità dell'esistenza è sempre legata alla soggettività, non è una verità oggettiva, Hegel sbaglia. Quindi la verità per Kierkegaard non è, non ha una valenza solamente conoscitiva, la verità ha una valenza esistenziale, e proprio per questo come vi ho detto è una verità sempre legata al soggetto, al singolo, è la verità sulla realizzazione di quel singolo che è ciascuno di noi. Da quanto detto, e questa può essere una sorta di conclusione, Kierkegaard a differenza di Hegel sottolinea con forza il primato del singolo rispetto al genere, rispetto all'essenza. Kierkegaard dice, e l'abbiamo già accennato prima, che l'essenza dell'uomo non è qualcosa di generale, ma è l'essenza sempre singolare, la verità di ciascuno di quel singolo che siamo tutti noi. E sottolinea che questo primato della singolarità, della soggettività, è qualcosa di cui bisogna rendere grazie agli insegnamenti del cristianesimo. È il cristianesimo che ha sottolineato con forza il primato del soggetto nel suo rapporto con Dio. E quindi Kierkegaard in tutta la sua riflessione filosofica continuerà a controbattere criticamente nei confronti di tutti coloro i quali, in particolare dell'idealismo hegeliano in quel periodo, sostenevano che il finito e l'infinito tra loro si identificassero e che il finito non fosse altro che una manifestazione dell'infinito. No! Kierkegaard afferma con forza che non è possibile identificare identificare l'uomo con Dio. Identificare l'uomo il singolo come una manifestazione finita dell'infinito. Esiste una radicale separazione tra il finito e l'infinito tra il singolo e Dio. Ed è proprio qua che vedremo proprio su questo campo sul rapporto tra il singolo e Dio tra il finito e l'infinito che si giocherà per Kierkegaard la possibilità di un'esistenza autentica e questa coinciderà con la scelta per la vita religiosa ma lo vedremo nelle prossime lezioni.